Giovanni Fattore è attivo dal 1850 al 1910. Le figure sono studiate dal vero, l'espressività è corretta. Per quanto riguarda la profondità è data dal muro, la plasticità è poca secondo lo stile macchiaiolo, la scena è realista, così come possiamo vedere il contrasto tra colori chiari e colori scuri. Il soggetto è in verità, è un olio su tela.